Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale, noi siamo i Wolf Brothers e oggi siamo ritornati su FIFA 19 per registrare un nuovo episodio delle squadre strane e oggi siamo in Giappone! Esatto, per fare la partita tra... Shimizu Pulse e Wiesel Kobe! Perfetto, partiamo dai padroni di casa, il Shimizu Pulse. Allora, il Shimizu Pulse scende in campo con un 4-4-2. Classico! Esatto, in porta Rokutan, in difesa il signo Wang Seok-Oh, Wanderson e Matsubara. A centrocampo il capitano Shinsuke Nakamura! Kawaii, Takeuchi e Kaneko e in attacco Kitikawa e Douglas. Ok, il Wiesel Kobe risponde... Si può dire o con un 4-3-3 offensivo o, come piace dirlo a me, con un 4-2-1-3. In porta Kim Seung-Ju! In difesa Nishi, Watanabe, Osaki e Atsu... Azzuse, sì. A centrocampo Samper, Iniesta, il capitano Podolski e in attacco Furuashi, Masuyama e David Villa. Ok, tutto è pronto. Stadio Forest Park Stadium. Shimizu Pulse contro Viesel Kobe. Si scende in campo. Arigato! Amanti degli anime, dei manga, dell'Asia, dell'Occidente, benvenuti dai World Brother, qui in Giappone, anche per uno stadio che si chiama Forest Park Stadium, più inglese di così non si può, per la partita tra Chinchupanchu e Viesel Kobe. Giocatore da seguire, André Siniesta, 0 presente, 0 gol, mamma mia. Oh. Fenomeno, eh. Questa però è una logica. È fenomenale. No, il Shimizu Pulse non c'è l'allenatore. Eh, ha da vedere anche che c'è il Viesel Kobe. Vabbè, per adesso lo Shimizu Pulse come allenatore, chi ti piace, Olly o Benji? Olly. Olly, ok. È un po' il Viesel Kobe, quindi Shimizu Pulse lo allena Oliver Hutton. E il Viesel Kobe lo allena. Se la regia ci aiuta. Regia? Benjamin Price, perfetto. Ok. Stiamo a posto. Madonna, il cappellone. Si parte. Ok. Io già nel fare la formazione ho visto che il joystick mi dava problemi e quindi... L'ha dato a Marche in sti giorni? No. Ah, perfetto. Ah boh, cominciamo. Matsubara, Kawaii, Kitika, eh sì, Kaneko, Kaneko, subito, il Shimizu Pulse. Perfetto, ho già visto che R1 non mi scatta, molto bene. In mezzo, Kaneko per Nakamura, anticipato. Ancora il Shimizu Pulse con Wanderson. Kagawi. E il signo. Takeuchi. In mezzo per Douglas, anticipato anche Douglas. Meno male che almeno X e quelle cose mi funzionano, perché sennò mi preoccuperei davvero. Samper, Iniesta, Podolski, Villa. Uh, se passava. Kaneko. Douglas. Kitikawa. Kawaii. Nakamura. Nakamura. Rientra Nakamura. Prova il tiro a giro. Lontina così veramente a me R1 mi abbandona, perché non riesco proprio a scattare. Uh. È un problema del joystick. Un po', via. Matsuyama. Fuori gioco. Buono Matsuyama, non ti incazzare. Che si incazza a questo, spacca tutto, eh. Inizia a cacciare mosse di karate a Yosa. Vai che l'hai visto. Via, via, via. Bello. Bella parata. Vai, Kuruashi. Kuruashi. Porca salosa, là. Non arriva. Pura, Puruashi. Podolski. Puruashi. Palo, baffanculo, Puruashi. Ma no, ma no, ma aspetta. Mi sono fatto autogol. Cioè, aspetta. No, non ho ca... Allora, eh, sì, un avvero. Puruashi. Puruashi. È un casino. Di tutto palo per un'ennesima volta. Autogol! No, no, gol mio. Mi sa che gol mio. Andiamo. Sì, gol mio. Sì, gol tuo. Gol mio. Qui mi dà gol. Sì. Kyogo Furuashi. Arigato. Ok, uno a zero. Kaneko. Prova a reagire. Il Shimizu Pulse. Kawaii. Douglas. Bella per Kitikawa. Kitikawa! Bravo Ki. Kaneko. Ma perché ti reagiro? E li fanno di merda. La prefer... Eh, grazie. San Pedro, però, se te svegli e non... Non pensi a pescare, mi fanno un favore. Dai, che bella! Kitikawa! 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 Bravissimo Kim! Kaneko. 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 In mezzo, Kitikawa! Anticipato. Via. Bravo, Matsubara. Kawaii. Douglas. No! Fantastico! Masuyama. Eh, vabbè, nello 80.000 persone. Povero, povero Cristo. Nakamura. Kawaii. 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 In mezzo... Kitikawa! Niente! Buonissimo Kim! Ok, iniesta. San Pedro. Madonna via che scappo. Bravo Wanderson. a recuperare. Kawaii. Vede partire Nakamura. Servito Nakamura. Rientra Nakamura. Prova al tiro! Bravo Kim! Matsubara. Kawaii. Nakamura. 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 Niente. Odoski. Ok. Eh, fallo! Ma no, vai. Fallo, dai! E fallo su via! Vaffan bagno! Vai, Nakamura! Nakamura! In mezzo! Dai, Kitikawa! Cross! Finito! Calcio d'angolo! Sì, vabbè, dai. Allora ditelo. Cazzo, due minuti di recupero tua sorella. Ah! Ah, no, forse vale doppio in Giappone. Vale doppio. Ecco perché. Vamo! Tire primo tempo. Si riprende. Ripartiamo. Via! Podolski. Via! Podolski mi sa che è fuori gioco. No. Non è fuori gioco. No, ho provato a tenerla in campo. Kitikawa. Kaneko. Vai! Il signo. Il signo. Il signo. In mezzo. Douglas! 1-1. Bel cross di il signo. Bel colpo di testa di Douglas. 1-1. Palla al centro. Io non riesco a capire perché alcune volte mi scattano e alcune volte no. Non lo capisco proprio. Boh. Diglia. Diglia! Non so come cazzo ha fatto arrivare. Cos'era? Era un cross? A quanto pare no. Ma che cazzo è? No dai, questo non può essere un tiro. Attenzione. Porca Giuda. Iniesta. Attenzione Alvis e il Kobe. Samper. Via. Attenzione. Via. Samper. Via. Podolski. Gol! luca spodolski 2 a 1 bello 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 ha quindi alcune volte funzionano anche per me i tiri da fuori alla boia d'un juda meno male vai kitikawa ma porco kitikawa in mezzo di testa no 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 bravo kim dobbiamo comprare kim se guardate sto roma guardate sto video ciappate sto portiere va la che è molto più decente kitikawa che è molto molto più decente hai voglia prossimo mezzo kitikawa niente takeuki e il segno ma basta un culo vai caneco 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 ma che due maroni takeuki kitikawa douglas kawaii douglas ma perché centrale douglas ok ok via e dai via svegliati un po cazzarola mamma mia figlia inguardabile oggi via qualche buona podolski podols cazzarola kawaii kawaii in mezzo nakamura non anticipato la finita matsubara takeuki ma perché indietro testa di cazzo cazzo tira no ma come rimessa pensavo che era angolo vabbé vai douglas calcio d'angolo Che grave, no, ma perché? Kaneko, Kitikawa Perché in aria? Ha commesso a fallo, ha commesso a fallo un capellone No, se la calcio di rigore cacciavo veramente qualcosa Caccia su Kim E andiamo! 2-1 Mr. Kobe The streak is over Dopo quanti Quattro pareggi? No, tre Non ricordo Cina, Irlanda, Polonia, Arabia Sì, quattro Questa è la quinta E vai La decine Lucas Podolsky E bravo Kim Comprate Kim Comprate Kim S Roma Comprate Kim che abbiamo un portiere decente Mamma mia Ok ragazzi Anche questo nuovo episodio delle squadre strane è finito Esatto Speriamo che il video vi sia piaciuto Se è così lasciate un like Lasciate un commento qua sotto Se non siete ancora iscritti iscrivetevi E noi ci vediamo al prossimo video dove andremo nel campionato Sono quasi un po' indeciso Ma sì dai Andiamo nel campionato austriaco Ok Bella rega Ciao ciao